Allora Ginevra siamo qui per parlare del mio nome vendetta il film di Cosimo Gomez che in questo momento oggi 30 novembre è arrivato su Netflix io l'ho visto qualche giorno fa e ho pensato insomma che per te è un gran bel cambiamento perché in questi anni ho seguito la tua carriera ti ho visto insomma praticamente anche crescere no diventare una giovane donna e questo è un ruolo che veramente forse è uno spartiacque ma spero spero di sì nel senso che io mi sono divertita veramente tanto come puoi immaginare su questo set e comunque ti ringrazio che comunque hai seguito insomma la mia carriera seppur all'inizio è ancora breve ma grazie e sì comunque sono molto fiera e sono anche molto agitata cioè oggi esce e sono veramente non lo so molto eccitata Anche perché insomma è su Netflix e quindi è una vetrina importante andrà in giro per il mondo quindi immagino che poi arriveranno anche dei feedback da altre parti del mondo per vedere come il film sta andando quindi immagino insomma che l'emozione sia bella alta e ho letto che questo film è stato girato in sequenza e ho immaginato che fosse molto importante sia per te per Alessandro perché i vostri personaggi partono in un modo e finiscono in un altro anche fisicamente questo vi ha aiutato sia singolarmente che insieme per poi creare quel rapporto che cambia che matura durante il film Sì assolutamente questo è stato fondamentale per noi perché abbiamo iniziato la parte diciamo l'utopia della vita quindi in Trentino una famiglia felice la partita hockey è stata la partita hockey che è la prima scena del film è stato proprio il primo giorno di riprese quindi comunque abbiamo girato tutti i vari step del film appunto che è comunque scandito in vari tempi e li abbiamo girati appunto in sequenza quindi sì a livello attoriale ovviamente è stato fondamentale e la preparazione fisica immagino anche immagino tu abbia avuto degli istanti per alcune scene particolarmente impegnative però penso che dal punto di vista fisico anche sia stato un percorso interessante perché ci sono dei momenti in cui insomma il tuo personaggio penso anche solo a una scena in cui viene presa e chiusa dentro un bagagliaio insomma è importante anche quella parte lì fisica immagino sì 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 prima di iniziare le riprese un paio di mesi prima abbiamo iniziato questa preparazione con con gli stuntman e Milano Novelli è lo stunt coordinator stupendi li amo alla follia perché ovviamente abbiamo giocato ovviamente erano cose molto tecniche da fare perché non era facile poi farsi male insomma la scena poi non sarebbe stata credibile però ci siamo divertiti un sacco quindi abbiamo giocato tutto il tempo perché il film è fatto praticamente per il 70% da scene d'azione quindi tra l'altro una delle particolari di questo film è che ha un respiro internazionale no tu lo vedi e ovviamente riconosci i volti del cinema italiano conosciamo il percorso che ha fatto Cosimo in vari settori cinematografici però poi per come viene girato anche le parti dove c'è una preponderanza più naturale no tutta quanta la prima parte ha un'impronta più votata alla natura rispetto alla seconda parte però ha un'impronta internazionale in questo senso qui Cosimo ti ha dato dei consigli di visione a me quando ho visto il film è venuto in mente Man on Fire di Tony Scott non so se lui ti ha dato dei film da guardare per poi poterti calare bene in questo mood sì assolutamente allora prima del film c'è stato uno diciamo proprio uno scambio reciproco lui mi chiedeva che so magari delle musiche delle canzoni che mi potessero far entrare di più nel personaggio lui mi ha consigliato appunto di film che è anche insomma stilisticamente insomma delle reference no delle immagini prima anche di tagliare i capelli mi ha chiesto insomma varie foto di vari tagli quindi in generale proprio per tutto l'aspetto proprio visivo stilistico del film ci sono stati molti molti scambi tra me e lui insomma quindi e questo ovviamente mi ha aiutato perché avendo comunque delle reference sotto ogni punto di vista sicuramente sono riuscita a cogliere proprio quello che voleva in ogni singolo punto del film insomma e proprio dal punto di vista di reference ci sono delle attrici di film di genere simile quindi comunque revenge movie alle quali hai guardato anche soltanto appunto fisicamente perché ci sono poi nella seconda parte del film io penso al paio di occhiali che porti a come metti il cappuccio insomma è una sofia molto diversa da quella che conosciamo all'inizio del film sì allora io non ti nego forse proprio la reference che io sento ovviamente più vicina è Natalie Portman proprio visivamente lei è molto più piccola di lui c'è questa figura di maschile appunto di un metro e novantatre appunto di Alessandro Kasman e io minuscola accanto a lui che lottiamo insieme quindi questo è ovvio che sì questa reference sicuramente mi ha aiutato molto proprio a livello in questo film si vuole raccontare proprio l'unione tra questi due personaggi quindi sì insomma questo e parlando proprio di Alessandro Kasman com'è stato costruire questo film insieme a lui perché ovviamente il mio nome vendetta è un revenge movie l'hai detto c'è tantissima azione però poi ci sono dei momenti che sono meravigliosi no? prima che Sofia scopre il passato del padre e quando poi lo scopre e ovviamente lo vediamo inizialmente non lo accetta però poi trova qualcosa non diciamo cosa e lì forse nella sua testa scatta qualcosa allora questo rapporto insieme ad Alessandro com'è stato? allora ti dico ovviamente questi due personaggi si proteggono l'un l'altro quindi sono spinti proprio da un forte senso d'amore da un sentimento molto forte per arrivare insomma poi a fare tutto quello che fanno nel film e quindi un po' in modo naturale perché comunque le scene lo richiedevano e quindi anche noi poi nella realtà ci siamo trovati subito bene abbiamo subito installato un bel feeling un bel rapporto tra di noi e poi ritornando al discorso di aver girato in sequenza aver girato prima la parte in Trentino Alto A ovviamente quello ha aiutato perché proprio a livello anche personale non solo attoriale perché comunque girare i film in trasferta è stupendo quindi sei in hotel 24 ore svegliato insieme per cui quello lì anche stringe molto il rapporto nel film ha un ruolo molto importante un libro di Jack London Il richiamo della foresta che apre e diciamo anche chiude questo film tu l'hai letto oppure ti sei lasciata trasportare insomma dalla sceneggiatura dai riferimenti che magari appunto ti dava Cosimo durante la lavorazione? Sì, allora io non l'ho letto prima del film cioè non avevo letto questo libro e durante il film diciamo che appunto c'è anche ci sono insomma delle scene in cui proprio vengono letti delle belle parti insomma di questo libro quindi un po' mi sono fatta trasportare un po' ho letto pensando all'esperienza del set quindi ormai è come se avessi avessi proprio figurato questo libro come il mio nome è vendetto cioè lo ricollego facilmente insomma al film e quindi sì insomma ovviamente un libro bellissimo e devo dire cioè mi ha fatto mi fa piacere insomma mi ha fatto molto piacere conoscere questo libro appunto grazie al film C'è un'altra scena molto bella c'è uno scambio tra te il tuo personaggio Sofia e il personaggio di Gasman trascorrono questa giornata insieme e la figlia vorrebbe scattare una foto come ricordo però il padre dice una cosa che ho trovato interessante che secondo me è anche molto attuale che non abbiamo bisogno di una fotografia per ricordarci quella giornata e mi è sembrato che fosse anche un riferimento perlomeno magari ce l'ho letto io al nostro bisogno di condividere tutto altrimenti non è reale passiamo una giornata da qualche parte abbiamo bisogno di metterla su Instagram su Facebook tu che fai parte della generazione Z insomma che è nata a differenza della mia che ho vissuto il passaggio tra l'analogico e il digitale senti che questa cosa fa parte proprio di te o stai imparando hai un rapporto con la condivisione che è cambiato nel corso del tempo? allora io diciamo non so se purtroppo o per fortuna ancora devo capire però sono molto riservata soprattutto sui social quindi mi mi sento molto distante da quel mondo lì nonostante ovviamente il mio lavoro comunque cioè insomma mi richiede di espormi anche ma comunque lo faccio sempre in punta di piedi per cui è un mondo che semplicemente forse non conosco a fondo e forse un po' mi inquieta ma appunto solo perché non conosco bene diciamo come il modo giusto di usare i social sicuramente ho qualche idea ma comunque mi fa un po' paura e poi semplicemente sono molto riservata quindi mi riesce proprio difficile condividere insomma le cose che mi capitano quindi sì insomma però mi rendo conto ovviamente che la mia generazione soprattutto ha questo proprio istinto anche nel condividere in modo istantaneo appunto sui sociali tra l'altro questo è un film che parla di violenza c'è questa violenza che esplode da un certo momento in poi nel film però mi ha fatto riflettere su qualcosa di ancora molto attuale che è quella violenza verbale della quale ormai siamo circondati e che spesso e volentieri proprio sui social ha magari il suo espluore maggiore è qualcosa che mi hai appena detto appunto hai un rapporto un po' riservato con i social però immagino che magari non condividendo tanto magari comunque ti capita di essere sui social e anche essendo tu una figura pubblica non so se hai avuto modo di essere tra virgolette vittima di quella violenza verbale che diventa è sempre più frequente quasi esponenziale rispetto a a un uso che si dovrebbe fare invece dei social certo esatto appunto per questo ti dicevo mi inquieta molto questo mondo e non mi è mai capitato per fortuna più che altro nei frutti pesanti poi ovvio che magari il commentino strano ma comunque non mi è mai capitato una violenza verbale appunto sui social appunto perché semplicemente mi cerco di tutelarmi il più possibile essendo proprio nascosta e riservata non credo sia forse questo il modo giusto per uscirne fuori sicuramente ma forse c'è molta insicurezza dietro magari quei messaggi per cui è un lavoro che andrebbe fatto veramente molto più a fondo nel nel lato emotivo di queste persone che scrivono questi messaggi che molto spesso non sono empatici nel senso che manca proprio di un sentimento importante che va insegnato comunque tra l'altro appunto hai parlato di empatia e questo film all'inizio ci fa sembrare fa sembrare che appunto l'empatia la compassione siano una forma di debolezza quando invece credo che proprio questi due elementi ci distinguano forse da la parte più brutta che spesso e volentieri tiriamo fuori fondamentalmente credo che poi alla base di questo film ci sia anche questo è un film che parla tantissimo di violenza però poi alla fine quello che fuoriesce secondo me è anche un senso fortissimo di amore non credi? certo assolutamente questi due personaggi agiscono proprio il nome dell'amore ovviamente nel modo sbagliato ovviamente inutile dirlo ok però sì sono spinti proprio da questo sentimento che provano l'un per l'altro e quindi poi la vendetta finale il riscatto finale anche lì è sempre un rimarcare proprio l'estremo amore che questa figlia approva per il padre e comunque viceversa sì e ti piacerebbe tornare a interpretarla? assolutamente sì da morire sono divertita tantissimo e sarebbe molto molto figo tornare nei panni di Sofia quindi vediamo ti faccio un'ultima domanda che in realtà parte dall'inizio cioè quando poi ti sei approcciata al provino con Cosimo come è andata visto che appunto era un ruolo particolarmente diverso da quello che avevi già fatto in passato? sì allora io tra l'altro ho rivisto Cosimo mi ha fatto vedere i miei primi provini appunto che feci anche con Alessandro Gasman e cioè fa strano comunque vedere i provini poi di un progetto che effettivamente su cui poi lavori io insomma al provino mi ricordo che dato che era una cosa un personaggio comunque molto diverso mi ricordo che ho fatto completamente proprio cioè ho tolto tutti i veli i vestiti ero completamente proprio una tela bianca su cui Cosimo potesse insomma dipingere e disegnare mi ricordo che tra l'altro al provino diedi un pugno al muro in scena e tornai a casa e c'era un anello rotto cioè avevo rotto un anello quindi avevo proprio fatto il massimo e tornai a casa dicendo non mi interessa come va però mi sono proprio divertita cioè proprio le scene che fece il provino insomma mi sono proprio divertita per cui poi quando mi è arrivata la chiamata insomma mi sono sentita soddisfatta e quel senso poi di divertimento ce l'ho avuto poi per tutto il set hai provato anche un senso non so di paura tra virgolette perché comunque appunto era qualcosa di estremamente nuovo e ti dovevi confrontare anche con un corpo diverso che si muoveva diversamente nello spazio certo questo assolutamente allora io tendo ad essere molto autocritica come credo comunque la maggior parte degli attori ma attento questa autocriticità mi mi lancia addosso un senso di responsabilità che comunque un po' ti porta ad avere un po' quella paura di oddio lo devo fare bene anche se non sono abituata a fare questo tipo di ruoli per cui sicuramente sì c'era questa questa proprio incertezza questo non sapere che cosa come mi sarebbe venuto banalmente e poi semplicemente ho imparato a fidarmi nel senso che mi sono fidata proprio di Cosimo come mi sono fidata della sua fiducia nei miei confronti non so se si è capito però ho detto ok basta mi affido a Cosimo basta tutte le paranoie basta quindi questo bene grazie mille per il tuo tempo Ginevra è stato un piacere grazie grazie grazie